Under 18 di Italia in Iran Siamo a Gualdo Tadino dopo il contratto che è stato fatto tra Figgici e Firi a seguito del contratto è stato fatto diversi partiti amichevoli tra cui partite amichevole Under 17 che sono venuti in Iran adesso Figgici ha invitato la nostra squadra Under 18 siamo stati molto soddisfatti di ospitalità abbiamo fatto una partita amichevole a Gualdo Tadino, provincia di Perugia di cui il primo tempo è stato finito 0-0 e il secondo tempo 2-1 il quale è stato fatto un rigore a favore di Italia e alla fine un altro rigore per l'Iran quindi siamo molto soddisfatti di questo lavoro che sta svolgendo tra due federazioni e diciamo Coverciano e tutto l'accademia di football e poi